Ciao a tutti, siamo tornati qui con la Valeria Domician, oggi vi faremo vedere le nuove guitari che stiamo usando donate dal nostro amico Pasquale La mia è una Yamaha Acustica APX500 che ha questa decorazione del foro della cassa armonica in plastica nera e queste striscette Poi vediamo che anche nel circuito ha anche l'accordatore e basta, per il resto è come le altre chitarre Invece la mia è la chitarra classica privata, decorata da cassa armonica, si vede una legatura del legno e alle chiavette di finta male perla e a forma di farfalle E il suono della chitarra qua, nel suono standard è così Ok Adesso vi suoneremo un nuovo pezzo a 20 anni Dalla presa A 20 anni facevi l'amore 21 avevi un marito A 22 avevi già un figlio Chiedo 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 chiamavi madama d'amore Le carrozze sono già preparate Le cavalli sono pronte a partire E tu vieni bella se vuoi venire a fare un viaggio di notte con me Tu vieni bella se vuoi venire a fare un viaggio di notte con me Chiederemo Valenti amici Accorderemo i cari strumenti Accorderemo i cari strumenti E la scusina vale volantà Chiederemo i cari strumenti E la scusina vale volantà Ciao a tutti iscrivetevi al canale e commentate Ciao a tutti